Si apre la prima settimana piena di ritiro per il Pescara a Palena, giorni nei quali Alberto Colombo attende qualche altro innesto per poter avere una base solida in tutti i reparti per iniziare a trasferire i primi concetti tecnico-tattici pur in una fase dove c'è preponderanza per il fattore atletico. Il voto principale da colmare è la mancanza del regista, la strada per Salvatore Pezzella è sempre più in salita, il presidente Sebastiani e il DS Dell'Icari hanno concesso del tempo, un giocatore che abbina due aspetti, età giovane, è un classe 2000, ma per un ruolo così delicato già un bagaglio considerevole, 22 gettoni in B con la reggiana, 52 in C tra Modena e Siena. Ma l'attesa è finita, il Pescara guarda altrove, Arrigoni non ha dalla sua l'età ma viene da stagioni sontuose e nel ruolo difficile trovare di meglio, in caso di conferma dell'esclusione della C del Teramo si sentirebbe libero di accasarsi altrove. Altra mancanza evidente è quella di un portiere titolare con Simone Guidotti della Fiorentina oramai diretto al Como e con l'ex Raffaele Di Gennaro pronto a legarsi al Gubbio. Intanto Colombo e i giocatori continuano a lavorare e sabato sono stati caricati dalla presenza degli Ultras Biancazzurri. Domenica il primo test, ore 17.30 allo Stadio degli Angeli contro la Dana Demispor che sarà appuntamento di richiamo per tanti sportivi, come auspica il primo cittadino di Palena Claudio De Miglio che anche quest'anno ha ospitato la società Biancazzurra. Per noi è un piacere, noi ce la mettiamo tutta per far sì che le strutture non siano sempre al meglio, affinché veramente la squadra possa allenarsi e dare il meglio di se stessa. Vuol dire che l'arrivo del Pescara fa un po' iniziare anche la vera e propria stagione estiva nel comprensorio del Sangro Aventino? Sicuramente sì, diciamo è proprio lo start, è l'inizio perché permette a tante famiglie, con il fatto che il Pescara Calcio è qui, tante famiglie di sabato e di domenica si iniziano a avvicinare a questo Alto Aventino, a questi bei luoghi e ci auguriamo che quest'anno se tutto andrà come deve andare, e spieghiamo che sia così, avremo anche l'apertura del Grotto e del Cavallone e sarebbe veramente un gran ritorno da un punto di vista turistico ma soprattutto economico per queste zone che sono in sofferenza. Poi diciamo anche che c'è questa amichevole di prestigio del 24 di luglio contro i turchi della Dana. Beh è stata una sorpresa non da poco sapere che è una squadra allenata da un nostro concittadino nel senso italiano che è Montella e poi nelle file pare che ci sia anche Balotelli se dovesse rimanere. E se pare stia andando via, c'è però Biarnason. Beh ecco già a rivedere anche Biarnason sarà un piacere su questo campo, cioè poi è veramente una soddisfazione, poi quando vedi il campionato normale vedi dei nomi che comunque hanno calcato il campo di Palena. E' una gioia e un orgoglio per tutti i palenesi che contribuiscono, che loro rotasse a farsi di avere un campo di questo livello.